Il contributo statale a sostegno del Comune e le linee guida del Piano per Napoli sono al centro della seduta odierna di Consiglio Comunale. Oltre 1 miliardo e 231 milioni che entreranno nelle casse comunali ripartiti in 21 anni, a fronte dei quali il Comune dovrà impegnarsi a recuperare risorse per un quarto dei fondi erogati dallo Stato. L'obiettivo per i prossimi anni realizzare maggiori entrate e per farlo si punterà tra le varie misure su riscossione, patrimonio, partecipate, riorganizzazione dei servizi e aumento degli investimenti. Un piano molto articolato che sicuramente mette in sicurezza le finanze del Comune, evite il dissesto e con tutte le conseguenze molto gravi che porterebbe dal non pagamento dei creditori alla liquidazione delle partecipate, alla svendita del patrimonio, quindi un intervento molto strutturato che è basato essenzialmente su un miglioramento della riscossione e su una valorizzazione del patrimonio. È un'occasione storica per Napoli per rimettere a posto le casse del Comune che è la precondizione per poter creare realmente sviluppo. Il passaggio in Consiglio Comunale è propedeutico alla firma del Patto per Napoli che consentirà alla città di ottenere i fondi per ripartire. Presentiamo il piano che serve a fare l'accordo col governo che è previsto da leggi di bilancio in maniera tale da sbloccare i finanziamenti, sono oltre il miliardo e due che dobbiamo avere. Chiediamo al governo che queste tranche annuali vengano erogate entro il 31 marzo di ogni anno per poter prevedere e chiediamo anche che questi soldi non pregiudicano il fatto di averne altri perché poi lo Stato mano a mano mette a disposizione ulteriori risorse. Agiremo sul patrimonio, agiremo sulla riscossione e faremo in modo che l'intervento fiscale sia il minimo possibile ma insomma abbiamo avanti due o tre anni nei quali bisogna dare la svolta. Noi abbiamo 880 milioni di multe non pagate, 770 milioni di tari non pagate, insomma lo spazio per condividere il percorso c'è per tutti.